Allora oggi ho presentato il progetto Build Interest, progetto che abbiamo all'interno del programma Horizon che ci ha finanziato insieme a partner olandesi e francesi. Questo progetto serve sostanzialmente per iniziare a analizzare le inefficienze e possiamo dire meglio le barriere non tecnologiche che esistono sul mercato dell'efficienza energetica. In particolare l'obiettivo è quello di migliorare l'attrattività degli investimenti nell'efficienza energetica e nella sostenibilità dell'edilizia. È un tema molto importante, molto caldo per il nostro territorio, lo stiamo facendo a partire da aprile di quest'anno in collaborazione anche con Nomisma e abbiamo realizzato infatti un primo ciclo di tre focus group che abbiamo chiamato Build Connection e che stiamo concludendo proprio in questi giorni. Continueremo le attività anche per il prossimo anno perché il nostro obiettivo è proprio quello di avvalerci dei principali stakeholder del campo della finanza, del settore delle costruzioni e del settore delle policy per ragionare insieme su quali possono essere le soluzioni di sistema, le nuove soluzioni, nuovi aspetti legati alla finanza innovativa che possono sbloccare questo mercato e rilanciare l'economia anche del nostro territorio in questa direzione. Grazie. Grazie.